Nuovi disservizi per i pendolari a retini, nuovi problemi per gli utenti di Trenitalia sulla tratta da e per Firenze. L'ultimo della lunga serie di queste ore, il regionale in partenza da chiusi alle 6.35 con destinazione Firenze e arrivo previsto alle 7.55 dopo un passaggio alla stazione di Arezzo annullato senza preavviso. A comunicarla gli infuriati pendolari rimasti a piedi un freddo annuncio dagli altoparlanti. Un episodio non isolato. Mercoledì scorso è stata la volta del regionale delle 7.48 in partenza dalla stazione a retina per il capoluogo di regione. Anche in questo caso cancellazione senza preavviso, freddo annuncio in stazione e lavoratori e studenti lasciati a piedi e infuriati. La vicenda ha riacceso la protesta del comitato pendolari di Arezzo, che presa carta e penna scritto immediatamente al neossessore regionale con delega ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, e ai sindaci coinvolti. Ancora una volta centinaia di pendolari sono stati lasciati a piedi a causa della cancellazione di uno dei convogli più utilizzati da lavoratori e studenti, scrive il comitato, che chiede alla regione toscana anche di intervenire energicamente per evitare che si ripetano ulteriori cancellazioni ritardi. E a stretto giro di posta è arrivata la risposta di Ceccarelli. Non sono accettabili le cancellazioni avvenute questa mattina con la soppressione del treno sulla linea chiusi a Arezzo, Firenze, che si aggiungono ai gravi episodi di questi giorni come l'incendio al locomotore del treno 3024, scrive l'assessore. Ceccarelli sottolinea che l'esasperazione dei pendolari è anche la nostra e ci riserviamo di valutare anche i presupposti delle interruzioni di pubblico servizio e le azioni conseguenti. L'assessore ha annunciato di avere già in agenda per la prossima settimana un incontro urgente con il direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia.